Leone d'Astigi e ospedale di Volterra, Volterra Toscana, Toscana prima in Italia per qualità della sanità, fiore all'occhiello della nostra regione, allora fiore all'occhiello Rossi, Enrico Rossi, governatore della regione toscana nonché prossimo candidato alla nuova presidenza della regione, un cartello per la cardiologia, un cartello, i soldi per una bomboletta magari serbatevi per scriverci cardiologia perché uno deve stare 40 minuti a girare per un ospedale per trovare la cardiologia sentendo l'indicazione delle persone. Cisanello, fiore all'occhiello della sanità regionale con i lavori fatti, ospedale in pianura ci sono le navette, Volterra ospedale in salita, le navette per il parcheggio c'è una pettata di 200 metri al 18%, per cui l'elettrocardiogramma lo dovresti fare qui nella struttura che mi è segnalata, lo dovresti fare da sforzo nel parcheggio, maledetti voi chi vi cosce il pane.